I disagi all'utenza sono solo temporanei e a breve saranno risolti, è quanto ci ha spiegato questa mattina Pasquale Petrucci, dirigente del Centro Assistenza Primaria Territoriale di Praia Mare. Le lunghe code di questi giorni per l'utenza, che si è recata presso la struttura a prenotare prestazioni o a ritirare il ticket sanitario, sono diretta a conseguenza di alcuni lavori strutturali in corso d'opera. La sistemazione dell'ufficio ticket posto nel semi-interrato dell'ex ospedale ha infatti determinato lo spostamento temporaneo dello sportello al piano di sopra, ovvero negli ambienti posti all'ingresso principale del CAPT che ospitano il centro prenotazioni. Una coesistenza forzata dunque che, oltre alle lamentele dei pazienti costretti a lunghe code, ha generato anche il malcontento del personale che si è trovato ad operare in spazi angusti. Nel giro di un paio di giorni, ci ha spiegato il dirigente del CAPT, i lavori di sistemazione dei locali per il ticket saranno conclusi e il disagio sarà superato. Lo stesso dirigente sanitario però ne ha approfittato per ribadire un concetto. Le code che si verificano quasi ogni giorno presso gli sportelli sono anche generate da carenze tecnologiche da un lato, ma anche dalla mancanza di abitudine da parte dell'utenza ad utilizzare i canali telefonici o telematici. Anche in questo caso tuttavia si evidenzia come la trasformazione dell'ex ospedale di Praia Mare in struttura sanitaria territoriale sia frutto di passaggi sempre molto lenti. La tanto attesa risonanza magnetica ad esempio non sarà operativa prima della prossima estate. Tempi incerti infine anche per l'operatività della lungodegenza. Da ambienti sanitari precisano che ottenuto il decreto dell'azienda sanitaria per la predisposizione del servizio, ora si sta lavorando alla ricerca del personale necessario di cui dotare la struttura e giungere finalmente all'attivazione del reparto.